Sling come l'altra volta e procediamo, stavolta ce la facciamo, siamo al quanto livello? No, ah no, questo è il boss, credo sia il boss, no, e allora no, è ancora lungo, la ragazzina è fastidiosa, adesso la regoleremo, dai però cerchiamo di prendere un po' di roba, a parte che è fatto l'ultima.